Omicidio Fossombrone, domani funerali di Milena Luzzi Torraccia, ritrovato il corpo senza vita di un 63enne Cartoceto, giovani multati per manovre clandestine con auto e scooter Vallefoglia, il centro di coesione sociale pronto entro fine anno La VL chiude il roster, ecco il pivot Gavin Schilling Una buona serata cari amiche e amici di Rossini TV Per questa nuova edizione del Rossini News Telegiornale di giovedì 27 di luglio che apriamo tornando sull'omicidio di Fossombrone Che ha portato alla morte della giovane mamma Marina Luzzi Domani pomeriggio i funerali alle 16 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice Da martedì mattina la città di Fossombrone è sotto shock Dopo essersi paralizzata e aver accolto il lutto cittadino indetto ieri dal sindaco La comunità forse empronese è rimasta silente e attonita Si prepara al giorno del funerale di Marina Luzzi La giovane madre di 40 anni uccisa nel suo appartamento martedì mattina Da un colpo di pistola sparato gli dal 47enne Andrea Marchionni Vicino di casa nonché fratello del suo compagno Enrico Funerali che si svolgeranno domani, venerdì 28 luglio alle 16 nella chiesa di Maria Ausiliatrice Si partirà alle 15.45 dall'ospedale di Fossombrone Per accompagnare l'ultimo saluto ad una donna rimasta vittima del caos mentale Che viveva nella testa del cognato Lo stesso cognato che quella mattina sceso dal suo appartamento Ha raggiunto quello di Marina sola in quel momento E l'ha sparato alla fronte con un colpo solo a distanza di 20 cm Colpo partito dalla sua pistola Beretta 9x21 Che custodiva in una scatola dal 2020 per uso sportivo Domani l'apparentemente placido killer sarà accolto dal jeep di Urbino Al quale dovrà, se ci saranno, spiegare i motivi per cui è arrivato a compiere un gesto così estremo Movente che fino ad ora non è emerso Lobby innocuo di ricopiare i quadri Ma anche il pensiero costante su vaccini, complotti e cellulari Strumenti che a detta sua spiano le persone Questi ultimi elementi finivano per tormentare la mente E la quotidianità di una persona fragile diventata ormai instabile La stessa instabilità che Marina aveva notato E che aveva riferito in questi ultimi anni con preoccupazione alla sorella Milena Sorella che più volte l'aveva invitata a raggiungerla nella sua casa Fano Ma Marina non ha voluto spostarsi dalla sua abitazione Quell'appartamento che condivideva con felicità e con entusiasmo Con il compagno Enrico e la piccola Nicole di due anni e mezzo Colpiti ora da un dolore lancinante ma abbracciati per sempre dall'amore di Marina Ancora cronaca perché ieri mattina dopo giorni è stato ritrovato il corpo senza vita Del 63enne Antonio Gabucci all'interno del suo appartamento in Via Cassiani nel quartiere di Torraccia L'uomo sembrerebbe essere stato colpito da un malore I dettagli nel servizio Ci troviamo in strada Cassiani, zona Torraccia, Pesaro Dove ieri 26 luglio e attorno alle 12.30 I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo del 63enne Antonio Gabucci all'interno della sua abitazione Ad allarmare la scomparsa dell'uomo, parrucchiere di professione È stato il cugino che abitava al piano superiore E che da giorni, non avendo più notizie, si è preoccupato per le condizioni di salute Vigili del fuoco che a loro arrivo hanno sfondato la porta per poter entrare all'interno dell'abitazione E da lì la mara scoperta Il cadavere ritrovato appartenente al 63enne riporta alcune bruciature ai piedi Che hanno portato alla procura ad effettuare degli accertamenti sulle cause del decesso E a chiamare il medico legale per un esame necrologico della Salma Decesso che risale a diversi giorni fa e proprio per questo, oltre alle recenti alte temperature Il corpo è apparso in un leggero stato di decomposizione Locale che, come potete vedere, è stato sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Pesaro Al momento, a parte le dubbiose piccole bruciature Tutto fa presagire ad un decesso dovuto per cause naturali Non si registrano infatti alcune tracce di effrazione all'interno di un'abitazione apparsa in ordine Tutti elementi che conducono a pensare ad un malore risultato fatale Sul posto, al momento della scoperta, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Gabice Al quale ha fatto seguito il nucleo investigativo di Pesaro per svolgere le indagini A Cartoceto, centinaia di ragazzi, in gran parte minorenni e neopatentati Si radunavano per compiere e filmare manovre pericolose con auto e moto Ad intervenire qualche giorno fa, i carabinieri della stazione di Colli al Metauro Assieme alla polizia locale di Cartoceto Che hanno identificato gran parte dei presenti, multandoli per circa 1000 euro Gli spettatori del clandestino episodio sono stati invece diffidati Le forze dell'ordine hanno anche appurato l'esistenza di un profilo Instagram Sul quale venivano caricati video e foto delle spericolate gesta E a Vallefoglia stanno proseguendo spediti i lavori Per la costruzione del più grande centro privato di coesione sociale Una struttura che, come comunicato dal sindaco Ucchielli, verrà inaugurata entro la fine dell'anno Civitas è il centro di coesione sociale più importante del centro Italia Un impegno sul piano della coesione, diciamo, delle persone più adulte Che hanno lavorato una vita e che hanno diritto a vivere in quella struttura Di circa 240 mini alloggi Di una ventina di alloggi per malati dalle salme Una ventina di autosufficienti Un pistodromo per l'educazione del codice della strada Con tutto quello che succede Con tanti incidenti, molti dei quali immortali Educare le comunità in generale A rispettare la legalità A rispettare le norme E in questo caso educare Al rispetto della velocità Del codice della strada E poi un palazzetto dello sport Anche, oltre che per le persone Diciamo tradizionali Che hanno più necessità Come le persone anziane Come i bambini Con le persone diversamente abili E' evidente che è un pezzo di città Un pezzo della città di Vallefoglia Un pezzo della vallata Perché comprende un po' tutti questi comuni E' un'opportunità anche di lavoro Perché il gruppo Guerra Gli imprenditori che hanno realizzato questo investimento Di 50 milioni di euro Prevedono 150-170 posti di lavoro Se tutto fila liscio entro l'anno Entrerà in funzione Io spero e penso che la Regione Debba convenzionarsi con questa struttura Che dà una risposta Non ha una struttura così di grande qualità Un po' in tutta quest'area del centro Italia Per cui ecco per Vallefoglia E' una straordinaria opportunità Per la nostra comunità Così come è stata una straordinaria opportunità Aver fatto la fusione dei due comuni Che ha portato un investimento Di oltre 20 milioni di euro Per i cittadini e le imprese Della città di Vallefoglia E' una struttura privata Convenzionata con Il comune di Vallefoglia Città di Vallefoglia Gli abitanti avranno un abbono del 20% Quelli che andranno dentro queste strutture E' chiaro che se la Regione Prevede Questo che ho raccontato I posti letto E diciamo convenziona Vuol dire che uno paga un po' di meno Quando porta una persona anziana Che ha lavorato una vita In un luogo dove è assistito E accudito E trattato a guanti bianchi E questa mi pare che sia Una grande opportunità Per tutta questa vallata Ma io direi per tutti i comuni Del centro Italia Perché è una bella struttura Struttura imponente E quindi speriamo Quando prima Che possa entrare in funzione Un'inclusione sociale Che a Vallefoglia Si stende anche dal punto di vista sportivo Nel Consiglio Comunale di martedì 25 luglio Sono stati approvati Importanti investimenti Riguardanti gli impianti sportivi La manutenzione del territorio E il potenziamento Della rete idrica 80.000 euro Sono stati stanziati Per realizzare Due tribune per il pubblico Una allo stadio Spadoni E l'altra alla palestra Palavitri di Via Guidi Entrambe a Montecchio 50.000 euro invece Per la manutenzione idraulica Dei principali fossi E 30.000 euro Per la realizzazione Di nuove condutture Per l'approvvigionamento Dell'acqua potabile Di alcune zone residenziali Per la messa in sicurezza Del fiume Tavollo Il comune di Gabice Mare Ha ottenuto un importante Contributo PNRR Di 200.000 euro Come già fatto Con il primo contributo Ottenuto di 550.000 euro Destinato alla messa in sicurezza Del Tavollo Nel tratto a sud Del ponte Su Via Romagna Anche questo ulteriore contributo Sarà destinato Alla messa in sicurezza Del fiume A nord di Via Romagna Intervento rilevante A seguito degli importanti Smottamenti subiti Dall'argine Durante l'alluvione Dello scorso 16 maggio E una nuova opera Colorerà Il campus scolastico Di Pesaro Continua l'attività Di reperti urbani Che invita Il duo artistico Serbo Sobekis Per realizzare Un nuovo progetto Sulla facciata Del liceo Marconi I due artisti Di Belgrado Sono intervenuti Su due pareti Ad angolo Del liceo scientifico Una posizione centrale E ben visibile Da gran parte Del campus Le geometrie I tagli E le simmetrie Dell'architettura Si sono fatti complici Di una poetica Distinto E fisicità Un'opera che racconta La pennellata Il gesto primordiale Per antonomasia Le tinte piatte E i colori pieni Esaltano il nero E il suo consapevole tratto E lunedì 31 luglio Con zona Cesarini Il calcio La vita Uno spettacolo Teatrale Scritto Interpretato Da Luca Pagliari Prosegue al Parco Mira al Fiore di Pesaro Mira al Teatro d'Estate Quarta rassegna nata Dalla collaborazione Tra Comune di Pesaro E Amat Con ente concerti Di Pesaro Lo spettacolo Attraversa i temi Dell'immigrazione Della povertà Del talento Dell'amicizia Del coraggio E della genialità E lo spettacolo Mortina Un musical Che ti farà Morire dal ridere In programma L'arena BCC Di Fano Il 6 agosto 2023 Alle ore 21 E' stato annullato Per motivi Tecnico-organizzativi I rimborsi Avverranno Entro e non oltre Il 31 agosto 2023 Attraverso il canale Dove si è effettuato L'acquisto E sempre all'arena BCC Andrà invece Regolarmente in scena Lo spettacolo L'amore bestiale Di Barbascura X L'amore bestiale È il titolo Dello spettacolo Barbascura X È un divulgatore Scientifico Lo spettacolo È una rassegna Dei metodi di accoppiamento Più bizzarri Strani E inconsueti Appunto Del regno animale Per cui Barbascura X Che ha un dottorato In chimica Quindi dalla sua Agli studi scientifici Che lo sostengono Racconta appunto Di come Gli animali Dell'amore tra animali Diciamo È uno spettacolo Che fa molto ridere E si imparano Anche tante cose Immaginiamo anche Perché da quello Che ho capito Non sono coinvolti Gli umani Esatto Esatto In minima parte Esatto No Non ci sono Non ci sono umani È adatto Ho visto anche tanti bambini Assistere a questo spettacolo E goderselo Il 23 luglio La nazionale italiana Ha trionfato in Francia Ai campionati europei E di patinaggio di velocità Un traguardo raggiunto Anche grazie al contributo Del pesarese Michele Ravagli Presente nello staff tecnico Il patinaggio di velocità In Italia È una disciplina Quanto mai in salute Lo dicono I risultati recenti Come quelli ottenuti Ai recenti europei di Francia Di fatto appena conclusi Che hanno visto La conquista di un titolo continentale Con Michele Ravagli Pesarese Doc Nello staff tecnico Con orgoglio ti do ragione Perché comunque Dal 17 al 23 di luglio Si sono disputati A Valence d'Agen Una settantina chilometri Da Tolosa I campionati europei Di patinaggio di velocità L'Italia Si è presentata In gran forza L'antagonista Era i padroni di casa Della Francia Che ovviamente Avevano strutturato Tutta la rassegna Per eccellere E gli abbiamo dato Del filo da torcere Portando a casa Tanti titoli Abbiamo vinto L'europeo categoria lievi L'europeo junior Abbiamo dominato nella velocità E abbiamo stradominato Anche su strada Quindi siamo tornati a casa Con un bottino Decisamente importante E io sono orgoglioso In quanto pesarese In quanto preparatore atletico Della nazionale Di far parte di questo team E questo è uno Dei tuoi tanti impegni Perché poi c'è quello Davvero H24 Nel far crescere il patinaggio Qui in città Tra mille difficoltà Assolutamente sì Il patinaggio È una disciplina Ancora nuova Per noi Perché comunque Dagli anni 50 In cui c'erano Le prime rotelle Si pattinava nel quad Nel famoso pattino A4 Addirittura con le ruote di legno Poi diciamo Il patinaggio Non ha più avuto un seguito Noi siamo l'unica realtà Riconosciuta Dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici Della provincia Di Pesaro Urbino E quindi Tra tante difficoltà Ma tra tante promesse Aspettative Portiamo avanti Questo sogno Questo sogno Che chiaramente Piano piano Comincia A prendere Contezza A prendere corpo In virtù Proprio sia Del bacino giovanile Proprio domani Partiremo per L'ultimo campionato italiano Categoria ragazzi allievi A Martinsicuro E sia anche Come abbiamo testimoniato Per l'alto livello sportivo Che siamo in grado Di sostenere Dal punto di vista Delle competenze tecniche Ora serve uno step Magari anche A livello di infrastrutture Che attendete da tanto Sì Lo attendiamo È un po' La famosa Manna dal cielo L'impegno Dell'assessore Della Dora È straordinario Sta seguendo Con interesse Capillare Questo progetto Questo progetto Ha anche La firma Della Federazione Italiana Sport Rotellistici In quanto A caratteristiche Dell'impianto Sarà un impianto Straordinariamente Performante Capace anche Di ospitare Gari internazionali E quindi Visto mai Che potremmo Portare qualche Rassegna di rilievo Coppa Europa Gari internazionali Europei Anche mondiali Nella nostra città Nel nostro territorio Visto che comunque Ci siamo già Affacciati In termini di competenze E in questo rimbalzo Tra peso Della nazionale Torniamo appunto Ai colori azzurri Perché ci sono i mondiali in vista Mondiali in vista Tra cinque settimane Mondiali ad alto e ceccato Montecchio Maggiore Veneto Mondiali in casa Mondiali in cui L'Italia Si presenta Davvero coriacea Avremo altre cinque settimane Di lavoro pieno Con i nostri talenti Lo staff Di cui faccio parte È capitanato Dal nostro commissario tecnico Massimiliano Presti Che ha avuto Delle visioni straordinarie Quest'anno Delle collaborazioni Addirittura con l'Istituto Di Medicina e Scienza Dello Sport Con il quale sono stati fatti Dei protocolli valutativi Sulla forza e potenza Degli atleti d'elite E quindi un filo diretto Con i club Che hanno feedback Importanti su quello Che sono i valori Degli atleti monitorati Nell'arco dell'anno Quindi forza azzurri Molto yes E la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ha completato Il suo roster Infatti oggi È stato raggiunto L'accordo Con il Pivot Gaving Schilling Classe 1995 Di 206 cm Per 107 kg Nato a Monaco Di Baviera Con nazionalità Tedesca statunitense Dopo l'esperienza Della passata stagione In Francia Con i colori Del Limoges Interrotta a metà anno Con la Prodo In Turchia Al Cognaspor È pronto per indossare La canotta 34 Biancorossa Aggiungendo alla squadra Di coach Buscaglia Fisicità E dinamicità Lo stesso coach Ha commentato Con entusiasmo Il neoacquisto Mettendo la parola fine Sul mercato Della VL E con la notizia sportiva Si conclude qui Questa nuova edizione Delle Rossini News Però come di consueto Prima di salutarci Vi ricordo Gli appuntamenti di serata Infatti questa sera Alle ore 20 Andrà in onda La diciottesima edizione Della festa del prosciutto Di Carpegna Dopp E poi a seguire Alle 21.20 Vi ricordo L'appuntamento Con lo speciale Realizzato Sempre da noi Di Rossini TV Con l'assedio Al Castello di Gradara Alla sua decima edizione E infine Vi ricordo anche L'appuntamento Per domani mattina Alle ore 7.20 In diretta Sia sulla pagina Facebook Che sul canale 80 Con la rassegna Dei quotidiani Della provincia Di Pesaro Urbino Ovvero con Buongiorno Rossini E adesso è veramente tutto Io vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata